Il Paradisi delle Signore 8, anticipazioni dal 13 al 17 novembre 2023, Maria davanti ad una scelta, Vito o Matteo? Gli episodi inediti della Sopo andranno in onda su Rai 1 dalle 16 e 5. Ladies Paradise riapre per una nuova ottava stagione. Scopriamo insieme la sinossi dei primi 5 episodi dal 13 al 17 novembre 2023. Ecco un'anteprima di Il Paradisi delle Signore 8, questo episodio è andato in onda lunedì 13 novembre 2023 dopo aver incontrato più volte Leonardo Crespi ed esserne rimasta affascinata. Irene finalmente riesce a conoscerlo, ma Alfredo non considera positiva questa intimità. Mentre Fiorenza incontra Tancredi e chiede un favore in cambio, Matteo diventa sempre più in ansia per il grosso debito che deve pagare con lo strozzino e per i soldi necessari per ripagarlo. Marcello intuisce che il fratellastro è nei guai ma non riesce a convincerlo a confessare, mentre Matilde si preoccupa per le sue rivali. Una nuova svolta si svolge per Maria Paglissi, che riceve una nuova ed importante promessa da Vito ed è decisa a riconquistarla. Paradiso ha un grosso problema di approvvigionamento e potrebbe risolverlo. Puntata in onda martedì 14 novembre 2023 Vito ha sorpreso Maria con la sua proposta e lei non sa cosa fare, affidandosi anche all'opinione della sua famiglia al completo. Nel frattempo lui vuole trovare a Milano una valida alternativa al lavoro che ha in Australia. Leonardo è atteso all'atelier per parlare con Vittorio e Irene lo evita ad ogni costo. Mentre Marcello nota che Matteo non porta più l'orologio che gli ha donato Adelaide prima di lasciare la città e si insospettisce ancora di più. Intanto, a Galleria Moda Milano, Tancredi e Umberto discutono sull'affare della Gramini e Flora si imbatte causalmente in questa conversazione scioccante. Puntata in onda mercoledì 15 novembre 2023 dopo aver rivelato di aver preso seriamente in considerazione l'idea di seguire Vito in Australia. Maria si imbatte nello strozzino che la minaccia velatamente e a quel punto Matteo non può più cercare di cavarsela da solo. Vedendo la donna di cui si è invaguito presa di mira, Portelli confessa tutto al fratellastro Marcello che si infuria ma accetta di aiutarlo. Mentre Alfredo è sempre più geloso di Leonardo Crespi e, involontariamente gli rivela che Irene lavora al Paradiso, Tancredi vede Vittorio e Matilde molto vicini e non riesce a mantenere il controllo. Puntata in onda giovedì 16 novembre 2023 Matteo decide di dare le sue dimissioni da contabile del Paradiso, avendo visto Marcello davvero furioso e deluso da lui. Matilde è tra due fuochi, da una parte comprende la sfuriata del marito Tancredi ma se ne sente offesa, dall'altra deve scusarsi con Vittorio per le parole ricevute. Origliando una conversazione sul destino di Tessuti Colombo, Vito ha un'idea che potrebbe permettergli di rimanere a Milano con Maria. Al circolo c'è grande fermento per l'elezione della nuova presidentessa, dal momento che la lotta è tra Flora e Fiorenza. Puntata in onda venerdì 17 novembre 2023 Flora ha vinto ma non può essere del tutto soddisfatta, lei vorrebbe sposarsi ma da parte di Umberto nessun cenno al matrimonio. Vito si dichiara pronto a subentrare a testi Colombo, ma Fiorenza, arrabbiata per la sua sconfitta, intende tradire Tancredi e il patto segreto. Infatti al Paradiso si presenta l'imprevedibile Gramini e chiede di Vittorio Conti.